E' riuscito a lanciare il sacro Aquarius. L'allievo ha superato il maestro. Che cosa mi resta adesso? Che cosa mi rimane? Felice di aver creato l'uomo che ha acquisito lo zero assoluto. Sono un nulla a cui non è stato concesso di essere all'altezza del proprio allievo. Che cosa mi resta? Non sono degno di essere cavaliere d'oro di Atene. E' strano come ora le ambizioni di una vita mi sembrino senza senso. Senza senso di fronte a quest'uomo che è ciò per cui io ho combattuto. Davanti a me vido l'allievo che è giunto dove io non sono mai arrivato. Non ho più motivi ormai. Per essere cavaliere d'oro lascerò a Crystal il dominio delle energie fredde. Lui ne è degno, ben più degno di me. Era davvero necessario che venisse quest'uomo a farmi capire l'inutilità della mia esistenza? Non ho mai accettato quello che hai fatto Aquarius. La tua volontà di rendermi cavaliere era estranea ai sentimenti che provavo. Eri così diverso da me ma hai cercato di aiutarmi. E di questo ti sono grato. Ti è costato assolvere il tuo compito di maestro. Non ho mai voluto esserti superiore. A presto. A presto. Grazie a tutti.